L'intero sistema produttivo Veneto, sull'esempio dei settori della concia e della lavorazione del marmo, per attraversare la crisi e uscirne positivamente, deve puntare soprattutto sui processi di innovazione per arrivare a significativi aumenti di qualità della produzione e quindi di competitività. Lo ha affermato Giuliana Fontanella, presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, aprendo i lavori del convegno organizzato a Chiampo dalla stessa commissione, al quale hanno preso parte, tra gli altri, i consiglieri regionali Lucio Tiozzo del Partito Democratico e Mara Bizotto della Lega e l'assessore all'industria Vendemiano Sartoro. Da tempo si sta lavorando su quello che è il fenomeno proprio dell'innovazione e della ricerca. In questo campo sono stati fatti grandissimi passi in avanti, per cui l'abbiamo preso un po' come un esempio, da una crisi si può uscire investendo soprattutto su quelle che sono le potenzialità nella ricerca e nell'innovazione.